Amore, ti piacciono i biscotti razzarini? Volete riconquistare la vostra nazione? Sì, di cazzo! Chi siamo noi, veramente? Questo qui è tuo! Giappina! Era qualcosa che cambierà il mondo! Ma ho fatto mai delle riprese da ragazzino con la casa che avevamo in campagna? Tenetelo sotto controllo! Sì, i tempi sono maturi. Buonasera signor Russo, stiamo facendo dei sondaggi in cambio di buoni sconto. A Italia Libera! A Italia Libera! Guarda, ricordi? Che c'è? La mia buona! La mia buona è la mia! La mia buona è la mia! Grazie a tutti.